Mi benedica padre, perché ho peccato. Oh, Gesù. Giosa a scrivere. E chi lo sapeva? Abbiamo un altro lavoro. Qualcosa di grosso. Portati un ferro e dei cremaltelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla buon'ora. Ma dove sei stato? Ha letto tutto il giorno. Ehi, me lo merita un po' di riposo dopo l'ultimo lavoro, no? Cosa le porto, signore? Un caffè. Allora, ho sentito che non ti è andata bene stanotte. Non è stata colpa mia. È stata ieri. Ehi, ragazzi, fate i bravi. È un giro d'affari rischioso. Se non vi piace, potete sempre andare a spaccarvi la schiena giù al porto. Scusa, Eri, stavo solo rompendo le palle. Per stasera, allora? Tutto a posto per quella cosa che dicevamo. Ora lo sapremo. E sono due mesi di troppo. Che cazzo? Voglio i miei soldi. Cazzo, vedete che gestisco un istituto di carità. Fallo. Ora. Chi era? Non ti deve interessare per ora. Bene, sentite. C'è uno che deve dei soldi al boss. Ci ha aperto una gioielleria e non glieli sta ridando abbastanza in fretta. Stasera riscuotiamo il pagamento. E in gioielli? Più un piccolo extra. Joe, aggiornalo. La gioielleria è nel centro commerciale in mezzo alla città. De notte non ci sono guardie. Dobbiamo solo forzare la porta ed entrare. Tu capiste? Sembra un po' troppo semplice. Perché è semplice? Ma perché cazzo deve essere tutto così complicato con te? Parli, e tu che non sai cambiare in una lampadina? Non preoccuparti, ho pensato a tutto io. Ho le divise di una compagnia telefonica. Facciamo finta di aggiustare qualcosa. Va bene, andiamo. Ok, gli rubiamo tutto a quello scionzo. Dobbiamo solo aspettare che faccia buio. Ehi, allora, com'è andato al porto? Vuoi dire con Derek? Già, è uno sano, vero? Ti ha dato lavoro? Sì, ho dovuto ripassare dei tizi, ma era rubetta. Spreme quei poveracci proprio come ha fatto col mio vecchio. Beh, non eri costretto a farlo. Non è che ti ha forzato a lavorare per lui, no? Mia mamma, come si l'ha fatto? Smettela di fregnare, stai in contatto con Derek. Credimi, ha lavori migliori che sprepari quelli del porto. Sei appena passato, corrosso! E sollevalo quel cazzo di piede dall'acceleratore. Calmati, ho fretta. Vito, apri la porta. Ma che minchia succede? Dai, ragazzi! Gli sbirri saranno qui a momenti! Muovetevi! Brian fottuto O'Neill. Cosa cazzo succede? Pazzo irlandese, che cazzo stai facendo? Barbaro, brutto stronzo. Che cazzo stai facendo tu qui? Siete in ritardo, non è rimasto niente per voi. Fanculo, grassone. È la nostra rapina. Se volete uscire di qui tutti interi, è meglio che ci date tutto quanto. Il portello non lo dicevo che è questo posto di Brian o O'Neill. Altrimenti mica lo rapenavo. Magari gli davo fuoco, però. 1031 segnalato al centro commerciale West Side. Rapina in corso. Auto 54, ci siamo. E mi suggerisco di sparire prima che arrivano gli sbirri. No, cazzo! Bace il mio culo, per l'op! Dobbiamo levarci a dalle palle! Cazzo state aspettando? Prendeteli, ragazzi! Brian, che facciamo con gli sbirri? Fa' c***o di qui! A Wanda, andiamocene di qui! Corri, io ti seguo! Merda! Sbirri! Guardami le spalle mentre apro la porta! Tienemelo a lontani con gli sons! Sono qua! Tieni le pate ancora un po'. Oh, ma che brutta sciolza! Ok, fate. Andiamocene di qui in vieto, dai! È indietro! Fermi! Dobbiamo trovare la nostra strada! Non avete scampo! Cazzo! Merda sataiosa! Continua così e non arriverai nemmeno in tribunale! Tutto bene, amico? Dobbiamo passare per forza di qui! Avante, Vito! Muove il culo! Sei impazzito, cazzo! Hai coperto di ghiaccio! Se scivoliamo, siamo morti! Non abbiamo scelto! Io in galera non ci vado! Andiamo! Porta qui il culo! Ma che minchia aspetta un invieto del cazzo! Eccoli! Sparati! Merda! Sta' attento! Ci è mancato poco! Già! Credo di essermi cacato addosso! Dove sono finiti? Devono essere passati di qui! Fanculo! Non mi pagano abbastanza! Da questa parte di qui forse arriviamo in strada! Merda! Sberre! Fermi! Polizia! Non avete scampo! Perfetto! C'è solo quest! Tieni la pata ancora un po'! Non ci vedi qui vito, dai! Oh! Ehi, idiota! R non ci crederà mai, cazzo! Stupide bastardi! Andiamo! Fai il culo, spirro! Non ho fatto niente! Chirogli la bocca! Non voglio indipendere! L'irlandese questa grandessa manina! Il cazzo era quello? Brian O'Neill, pazzo schonzo irlandese, non troppo brellante, di solito fa lo scagnazzo. Non credo fosse lui il cervello dell'operazione. Merda gli spiriti, via dalla luce! Andiamoci! Tranquillo, dammi la borsa e mi libero io della roba. Va bene amico, ci vediamo a casa. Cerca di non farti beccare mentre torni. In cazzo sono sempre il po' in cui si può servire! Non cazzo è vero! Non te sozate che amico è, d'accordo! BisViva l'ultima! Non cazzo è vero! È un po' inizio! Non ci vediamo! Voi? Ma invece lo « Non ci vediamo le scuotereo! In un po' inizio! Provello « È vero! Non ci vediamo la scuotereo! Richiesto posto di blocco sul lato del ponte verso Athertown. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!